Il primo numero di Tex esce nel 1948, a tre anni di distanza dalla fine della guerra. Siamo in un paese che vuole sognare. Il successo di Tex certamente è legato anche agli spazi sconfinati, agli spazi in America dove il personaggio viene collegato. Ma c'è anche qualcosa di più. Finita il lungo periodo dei superuomini, Tex piace perché incarna certamente un uomo forte, un uomo dai valori forti, positivi, ma una persona normale. Il fatto che lui sia abile con la pistola è solo un dettaglio. In realtà lui ha un senso della giustizia che ripropone un uomo nuovo dopo la fine del conflitto e rispecchia quello che voleva essere anche l'Italia in quel momento. Ecco, ci si chiede, è stato più volte chiesto all'autore se Tex sia più un uomo di destra, perché è un vendicatore solitario, uno che va al di là della legge, o di sinistra perché Tex difende sempre i poveri, gli umidi, le minoranze. Ecco, la risposta è sempre stata una risposta semplice. Tex non è collocabile. Tex è un uomo buono dai valori forti e comunque è un uomo che difende sempre i più deboli. Anche per questo la figura di Tex è ancora straordinariamente attuale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.